Come riporta anche l'app di OneFootball, conferenza stampa puntuale alle 13.30 di Stefano Pioli. Per quello che riguarda la formazione si va verso un Donnarumma, Conti forse preferito a Calabria, Musacchio forse preferito a Gabbia, il resto con Romagnoli, Teo Hernández, Castiglieco, che si benasser Cialanoglu, Rebic, Ibrahimovic. Come sempre abbiamo un ospite, questa oggi con Monica Colombo del Corriere della Sera, è un Pioli che torna con emozione a Firenze, ricordiamo ovviamente la tragedia che ha colpito tutta la Fiorentina, lui stesso per la scomparsa di Davide Astori, però ha già detto sarà una partita difficile. Sì, ha ricordato quanto sia stata importante la sua esperienza a Firenze, contrassegnata da quella che è stata la grande tragedia avvenuta due anni fa a Udine quando persero Davide Astori, un ricordo che non solo porta sulla pelle col tatuaggio, ma che lo ha segnato, tanto che ha detto che si sente un uomo migliore dopo quella esperienza che gli ha aperto dei nuovi orizzonti. Ci è sembrato sincero quando parla invece, parlando di Milan, dei suoi ragazzi, come ragazzi che stanno dando veramente tutto, è proprio quella frase che gli ho detto io, il Milan emoziona perché i giocatori si emozionano ed è questo che viene fuori anche dalla parida col Torino, difficile, complicata, ma stanno dando veramente tutto. Sì, la squadra sembra che in questo momento sia impermeabile, diciamo, ai grandi rumors che imperversano la fuori a questa lotta di potere, se vogliamo, che è in atto tra l'amministratore delegato e i dirigenti dell'area tecnica, molto si gioca sul nome del futuro allenatore. Pioli mi sembra essere uomo di buon senso perché anche oggi ha detto che lui è concentrato soltanto sul presente, che il presente è la sua priorità e che non sa chi potrà incidere sulle scelte future e che è presto, diciamo, per perdere energie, per pensare a quello che succederà. Invece te ne voglio farle perdere a te. Come la vedi questa situazione, questo discorso solito che ormai è affiorato delle due anime? Ci sarà un vincitore, ci sarà una rivoluzione? I tifosi dopo sette anni difficili, anzi otto, nove anni difficili, forse non sono pronti a un altro elettroshock, vorrebbero un po' di continuità che non c'è stata con Gattuso, che potrebbe esserci con Pioli anche se adesso sembra difficile. Come ti poni davanti a questa situazione, personalmente? Ma io credo che qualora fosse vero che Ragnic è stato contattato a questo punto, penso che lo sia, anche se non credo che un precontratto sia stato firmato, certo è che in questo caso sarebbe un'invasione di campo in quella che è la sfera di competenza dei dirigenti dell'area tecnica, che ne escono un po' delegittimati. Detto questo, credo che la Diga Zidis abbia il filo diretto con Singer, proprietario del fondo, un po' al contrario di quanto avviene per i due dirigenti, cioè per Boban e Maldini. Certo, per il bene del Milan sarebbe opportuno che nel più breve tempo possibile ci fosse un confronto per chiarire le carte in tavola. Certo, se qualcuno mi chiedesse di scommettere 10 euro sul fatto che tutti e tre, cioè l'amministratore delegato, Boban e Maldini, siano presenti il primo di luglio qua a Milanello, io non lo scommetto. Ringrazio Monica Colombo, molto chiara, si parla sempre Monica di Summit, però sono uno di fianco all'altro di posti, scrivania al quarto piano, sembra incredibile che serva un Summit invece di parlarsi da una porta all'altra. Sì, però in questo momento mi sembra che Viga ha una sorta di incomunicabilità. Antonioni era il regista, mi sembra, Michelangelo Antonioni. Ringrazio Monica Colombo, se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelega.